un attimo uno contro uno con sto bm no no dammi 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 bimbo bimbo vieni vieni bimbo bimbo vai c'ho 16 vai c'ho 11 di ping ma che cazzo abbiamo sbagliato mappa non c'hanno bene per avere 60 pp si doveva una cosa di merda non cominciamo bene venghi venghi questa venghi venghi vediamo un poco se lei è preparato a lei ti dico niente aspetta no 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 devi abbiamo appena lena che cosa mi hai fatto aspetta che a via l'isola l'isola che cazzo mi senti a rosa c'è c'è 120 pps che cazzo mi senti a rosa vengono aspetta ma no stai mi scordi insieme no no c'è cazzo è un pesce ma che cazzo è un pesce ma che cazzo è un pesce ma che armi tu penditi pesci penditi pesci nella gola però oh oh fey fey chi dà muo no no era per provare no no era per provare ma che bimbo madonna no no mi cura proprio però uno contro uno su build eh voglio vedere un po' bimbo dove sei dove sei una scherzio ti chiamo eh tre due no un po' scaldato 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 chi se qualcuno sta guardando la stream il fratello non ce l'ha un fratello si 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 bello è il mio blume ah è sbagliato a far farlo perché ora hai giusto col compo ok ci siamo ancora 0 spettatori no mi trovo ma che è in streaming che no madonna so per cadere però adesso è 0 non sento una minuta forca troia no vabbè no vabbè Ma come si scaricano le manco che voglio scaricarle? Oh, va bene. Poi di puoi riparare questi cosi. Si. E va bene, va bene, va bene, va bene. E va bene, va bene, va bene, va bene. Ma lei dà. Aspetta, devo mettere un attimo dei cuffi. Allora, fai un attimo una storia dove dici che sei live. Quanto giù sei? Giusto un po', eh? Ma sto giù. Ah, non ti boxare, no, fra inutile che ti boxi. Che ti boxi come sei morto. Stavo scherzando, no? Ok. Vidi golp. Ia la cart. Un attimo. Ho, ho, ho! Unica in una scada. Ah, va bene, va bene. No, 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 no non ci credo non mi ha tipo mosso la visuale tipo 8 metri dietro vero può vederlo voli streaming e poi ti ricordo che sono molto guarda che sono un botto svantaggiato perché io perché io ho la visuale più piccola ma chi te cacca no vamo fra ma tu c'è lo scopo è logico ma guarda lo scappo lo scappo non so scusa perché che maggior mila di meglio guarda non scelta solo questo che c'è cosa xbox falso cosa 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 fra infatti infatti non mi seguo non è che non mi dice i figli ho messo di due due cazzo sono lo scappo no ma non il cancro aspetta 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 ho capito? non lo ne ho capito però più orte è che sei giocato più forte costa, stava qua come? capito? non è che quasi vede così bene viti viti ah sto punto sto giocare e te la vestiti sto punto giocare e te la vestiti cazzo mi balli ciao ma cosa? no però non è possibile sta cosa e me lo so che la tua io stavo da zero da uno da uno dove è uno ho messo due volte ho messo due volte ho messo due volte come cazzo vai vai Giuseppe però guarda che è dentro però non sta finendo prima di guardare ma io ti avrei No! 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 adesso non fai un po' di pubblicità perché non so nessuno in stream ho capito ma non l'hai fatta un pietro io la donna però non è ma non c'è questo è un attimo uno contro uno ma non è possibile tu e il nonno tu e il nonno ma te mi hai messo il nonno con il mio mio non mi si mi riusciva il tuo cazzo l'aga qua dentro sto mangiando io ma veramente c'è il doppio r non c'è il lo lo i Vabbè bravo, non sta lancando Vai mai aiut male Ah non vedi che fare bene Bassi lui Ma vuole Odor prima ma Odor prima Non ci credo Non basta il tumore di male che c'è la è intanto una robbie è in fare vedere vale mai vedete un live dovete sapere cosa scritto nella live il titolo la vita e live hai visto il triccio non ci credo buongiorno non mi sento la polè a me non mi ha affiazzato un attimo cosa ma notti Oh, ma che è serio? Ma che è la mia... La stream? Ale? Mori, è minlobi Ale, la nonna è una lobby Mori, minlobi, se tu 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 E' buona Oh, le ho lasciato Non far cadere? Non far cadere, oh! 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 Ale! Ma posso ancora... No! Come spara? Come spara? Come spara! Oh my God! Come spara! Come spara! Come spara! Come spara! Cazzo! Come spara! Oh! No! 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 Mi sei bugato! Oh! Cazzo! io dito pochissimo, tu si, tu si può proprio lo scuff ma ma come fosse sto scuff? ah le sono i tastini che stanno dietro al pad e ti aiutano molto nella mira ma sai lo sai che cosa serve? il controller dello scuff gaming no? eh quello eh lo scuffetto dei soldi ah basta almeno 100 euro un controller di me 102 100 euro basta almeno 100 euro un controller di me mi ha aiutato sempre mi ha aiutato tutto lento non è vero Ale vai a vedere il sim è pochissimo, tu si tu si può proprio lo scuff? ma non c'è lo scuffo Ale sono i tastini che stanno dietro al pad e ti aiutano molto nella mira ma forse ma sai lo sai che cosa serve? il controller se lo scuffi no? eh quello eh cos'è un piatto dei soldi no ma salmene 100 euro un controller di me 100 euro no salmene 100 euro un controller di me ma vale come no 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 non è vero no no ma rega buongiorno no 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 ma voi non farei bimbomichile che fai cadere passi no 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 quel cazzo che tu usi il combat no la usi il combat e ho trovato qua terra fucile a pompa si chiama con l'oiola da dentro cristo figlio ma come sei fusa per questo manco il cecchino vale manco il cecchino vale no frati ti distruggo se vuoi fare uno scutto facciamolo più o meno di distruggo e non dico cosa bisogna fargliare questa cosa cosa quanto cazzo degli spamm sti cosi io no tu si ma sono andato a rarmi vai giustario forse la vita i greghe HELLO NOOOOO ma boh ma tu hai cazzato ma boh l'avrei preso quattro cinque volte oddio oddio che sono andato dalla dalla mappa cioè dalla raggredita con una mappa vecchia dove? è là il seno ha fatto 200 bravo bravo tutto ma da che li hai? 11 e cazzo gli dici lo giuro ti ho fatto tutti i gili tu? io sei sei ma tu sei sentirevi lo scaffo? ma non ce l'ho scaffo ma non ce l'ho scaffo ma non ce l'ho scaffo mamma mia che bello sto blu raga pure what the fuck what the fuck ah ah omt i g việcci il portero viene bene ma che cosa ma che cazzo dici no perché ti senti così forte cioè se non facendo frase il mio pisello sì ma il mio pisello sei il mio pisello non ti curare non ti curare sei valenti curare oggetti si è spammato le cure io no tutte le ore vabbè però di segura di quanto evitai vieni qua fatti fare vatti vattitare ma curati tu no no vieni qua vattitare mi sei venuta it ma ma no prima io volevo curare uno è fra uno di vita è rimorso è rimorso siamo infatti mi ero curato prima mi vedesse non sai che tu hai amato una puttana cosa che tu hai amato una puttana è tua zia pure è tua zia pure chissà se questa è l'epoca tre tanto bella 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 ciao bimba sei in singola vabbè me la faccio pure in singola questo qua è lo shop di oggi ragazzi lo shop di merda stasera fa cagare i testi stasera fa cagare i testi sto stremmando power ma che cazzo mi ha fatto a me po stai ricordando stai sto stremmando mi sto facendo una singola no lo ho visto lo faccio no lo sto facendo una singola no lo faccio pure in singola no lo faccio pure in singola no lo faccio pure in singola mi devo allenare mi devo allenare sono un culo stavo sotto a sola di merda e non si premo di tosti no 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 ah rega buongiorno andiamo a boh andiamo nella città questa ah tipo borga allegro chi ci stai live chi? chi ci stai live un tipo eugenia cortes e wow cose eugenia cortes ciao e grazie eugenia cortes eugenia ti puoi iscrivervi al mio bellissimo canale? a lei che hai detto? iscrivetevi al Slend48 e al mio canale tipo troppo forti Slend48 è pure lui negli ncl però lui è scarso come la fame in Africa ah vamo che forti sei da spettante un secondo che c'è tipo gente bello spazio io cam però 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 oh 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 una parca una parca oh 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 bella fra su una granata scrivete nei commenti come si fa a vedere dove si spetta cazzo da un pollo si 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 e quindi che c'è molta no che ci siano i bot c'è molta probabilità di vincere un game cioè ad esempio ah beh questo non da contare ma guarda un po' la stream la stream vai vai blum vai vai grande è blum grande Io ce l'ho preso sette volte, però ho messo un botto di colpo. Stavo davvero a tutt'argo, va. Sono un defino. Oltre, no. Molto, no, no, no. Giù dalla montagna. Ho detto guarda di riportarmi la rocchiera, perché sennò non posso vivere qua. Stai a stile. Madonna. Ho una canna da pesca, brazzo. Si pescano le armi. Si pescano le armi. Si. 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 Li. Si. Fu. Wow, ha una puttana. Adesso il bello è che il full damage è di meno perché adesso mi lanci l'acqua e non prendo danno. Cosa? Bello me lo metto nel culo questo cecchino vabbè a me servire pesca cioè fa una canna pesca fa il danno la faccata pesca no però può prendere i player ora potrei dire che giochina la spesa no vabbè o che è passato? Ok tra l'altro mi traghetto Oh! Mucca nonno! Mamma te va bene trovatele a tutta fosse chiusa a prenderci il pisello visto che sei un po' viello la tua mano non è verita? ma ora va, 13 di guida mi sei ucciso una pera che è nata Fa un culo va La morte di mamma Quella puttana di merda La morte stramolta Ti distruggo Coglionazzo Dalla fa Gne 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 Ora vende il rosso cieco Però non so cosa buttare Ale Tre medikit Che butto Gli butti tre medikit Per un cieco in oro Si Gli butto Giù dalla montagna Poverò E la madonna Mi è arrivato una barcha in faccia Oh ma vedono Per cazzo E che madonna Ho fatto tre kill Però Dai Non c'ero col tipo Allora Doi cazzo Li trovo Ma le cecchina di vento Paura Ma raga Buongiorno Oh pesce No Li trovi la pesca Puttana di merda Dove è lì Di torna di Troietta Oh calma Lo fa bene Ma ti hanno cambiato gli altro Troppo Non fighissimi Noi arrivi Ma non mazza Mi devo costruccare il dito Per Io Ho hamperò Io hamperò Io hamperò Io hamperò Io hamperò Io hamperò Ma avete rotto la minchia Oh Dove è per segnare Dove è per segnare In live Te lo giuro Guarda che stimano Guarda che stimano Dai Questo qua Tra l'ho Troppo Troppo Alla Seconda Di quali Che non Avete Proprio Che mi servivano Alla Dentro Fa quel cacolo Che mi da Shit Che mi ucciso Che è per segnare Per segnare Che cosa Ah shit Ma dove vai lo spasso lo spasso 7 kill ma sei risa squadra complimenti complimenti devo dire stasera ho l'edito il build ma non c'ho il cristo di mira cioè se io in carro i colpini in carro a caso c'è io inizio colpino e trovo per terra sono quelli la bella di uccidio distrutto ma cazzo si switcha dai ma sembra che pingo 4 miliardi dai no dai no 4 4 dai c'è che stupo che c'è più non ci credo 8 kill buttate proprio nel cesto da questo da questo bidone 3 kill bidone di merda che spami come un porco dio bidone di merda bidone di merda bidone di merda puttana tua mamma puttana tua mamma puttana tua mamma bidone di merda puttana tua mamma i bambini di merda ma dove vai aspettate abbassare la grafica e la zaria di ripiense stupito sto bidone ho fatto la mia prima vittoria la rima di te è molto vero c'è una riscoltura di indio santo sei ritascata adesso? sii vengo sul canale con il diusto madre non cercavo stasera ho il diusto ma non c'ho il cristalino ma che è sta foto di merda sullo scoglio che non c'è nemmeno mezza pia non è caso no distrutta non è sembra che che pino quattro miliardi continuate dai nooo dai io quattro beh ma l'è tratta di due esci eh no ma c'è una creativa eh? no coppia oh creativa no coppia non vuoi fare creativa questo stavamo dicendo però mettami su lo strozzo non ci vedo però attacchi il busto da buone c'è sto ma questo è bisogno a me c'è quella schiena poi mi la metta qua ci credo ma questo ma che pino ma questo ma questo ma questo ma questo bidone per il bidone di merda per farmi con il morco dio ma che dunque si blocca il tipo slide bidone di merda bidone di merda bidone di merda puttana tua mamma mi rich Levi gli saperci big hole mi chieni chieni bidone di merda bidone di merda bidone di merda bidone di merda ha ��olo ad una bidone di merda c'è una mamma guarda però guarda si vede proprio la lingua qua 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 hai visto? ma è mio Marcello? guardatevi sei un po' chiodo andiamo qua dove andiamo? qua? no viaggia viaggia mi manca questa città dove ho messo sotto questa 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 cioè comunque io non so come però io a fortnite da una settastiera ho il build l'edit ma l'unica cosa fondamentale che serve in questo futuro gioco cioè la mira non ce l'ho più ahahahahah ok cioè Giuseppe io però voglio giustificare perché io ho tutta la cosa da assieme io ho già un tattico ho solo una pistola bianca sa gente da te? mmmm non proprio cioè per adesso ma fra poco mi sentirebbe segnare fra poco mi sentirebbe segnare ok no posso ma levi da me ho tutti i tipi di armi c'è invece 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 però uno arrivo l'amico ha morto ucciso morti c'erano bene c'erano c'erano non mi rai le cose queste parole eh dammi ti 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 mi ha stilato anche di sta puttana ma donna io l'avevo fatto sì una R lasci qualcosa a lei colpi medi una 80 hai una 20 hai colpi piccoli diciamo 40 dammi i colpi nanna perché prendiamoceli pure gioie oggi man 단 dalle cure è la solida l'impatti della regola non so non è spagato fa mi sparo ma sono due guarda quanti cazzo di colpi mi hai spistato mi hanno distrutto mi sto curando ti ripeni di me no che cazzo fai ci moriamo male ci moriamo male mi stai pronto guarda che sono pronto per evitare ma di forza 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 sta a dare ma di forza ho으�ani ma di forza ma di forza sono giù ma di forza ma di forza dimostra Palle sudate Allora noi siamo a palle sudate Siamo a palle sudate Ma che cazzo stai facendo? Ma che stai facendo? Ma questa è un'altra cosa che ti cura Quanti siamo? Zero, bello Ma che c'è uno di tutti? Ah, per aumentare i livelli Non abbiamo un mazzo, cioè tu sei un po' Sì, io c'è di massima, c'è di ricicoltere Non lo puoi dire dopo Che gente? No Che non da pesca? Da pescare un po' Siamo a palle sudate E poi, ah no Grazie a te lo scopo un po' Oh, troppo Qua Ora, prendi una mitraglietta Ho scelto Oh, spazio 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 dall'acqua Ho trovato un forse Ho trovato uno spazio dall'acqua Pesce Flopper No, flopper Alto flopper Alto flopper Alto flopper No, flopper Oh, ma che spazio però Oh, ma che spazio però Vabbè, t'acceglie se condi però Vabbè, t'acceglie se condi però Oh, on se, ma quando fu? No, no, no Vabbè 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 no cazzo hai uno slot libero hai uno slot libero e no perché dovevo prendere questa legura però che piste che piste piccolo ma non c'è questo caso qua è tua mamma te l'ho detto un pezzo ma mi stanno spottando no che cazzo è trovata una scatoletta che cazzo è stata lattina rugginosa che cazzo è trovata lattina no 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 I colpi Ma l'altro non c'è neanche una per scala Una scala Che rodo? Una lattima Una lattima un altro rodo Perché mi dà scala lattima? Un cazzo Quanti? Quanti? Cento e novanta Cinco Mazzo? Pochi Infatti me ne sto pure facendo il mazzo Sto sui duecento di legno Cinquanta di mattone E quaranta di ferro Mi serve un po' di Di colpi meri Di? Colpi meri Eh bravo ma io Trovate Mi chiamo perché non te li voglio dare Perché c'ho Che Da lontano C'è Se qualcosa Fa un po' di fila C'è Non ho appena colpito Ah no cinquanta Da meno a meno a dieci Ah no Ma un po' Non c'è Hai il shield Oh no Cioè c'ho cinque di shield Cinque di shield Cinque di shield Non so manco se tu lo chiami shield Cinque di shield Madonna mi hai fatto Fa il giallo Mi hai fatto cagare in bocca Ma te lo giuro Guarda per nemmenare troppi Tu veni colpo e vende l'arma No sta qua solo Ah no sta là Ma che cazzo Tengo boss So Atto Mini Tieni Puccio Uno due Sì Puoi staccarli Mini Eh c'è il cos'è il cos'è il coso Ah beh sì Questi cos'è il coso Ma è stacca è minima Oh Guarda un pesce Davvero Fattelo 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 Fatti i miei Prima i mini Fatti i miei E poi fatti quello Ma che cazzo Sei full Fattissimo Forte forte Dammi a te una canna Dammi a te una canna Stai là una canna Dove Ah dai Vado un pesce rossa Non si se Si avrò colpi Sparerò Tengo boss Lì Ci sono boss Lì a te Nel mio Boss Ah lei Devo andare a pisciare Mi sto pisciando sotto Altro flopper Oh mattone No Senti Io butto i cidini al pico No No Non buttare quattro cidini al pico Se è stronzo Butta la canna da pesca Per cosa butto A lei devi butto qualcosa Perché io ho quattro mini Sinceramente non le vorrei lasciare Questa mi prendi i pesci allora No i pesci già ce li ho Però i mini prendili Mi prendo due io Ma i mini le pesi Si No perché No perché Stai troppo Danna la safe Cattolica Giuseppe non ce la faccio nel safe Impossibile Ma che cazzo le faccio nel medit Che sta là Ma che cazzo le faccio nel medit Ma coprimi un attimo Da andare a pisciare Mi sto facendo Ma mi faccio A coperti che sto fuori Ma adesso però Ma calla è un piccolo fight devo dire ma vengo bene bene pure bene Eccomi. Cosa? A me le macchine mi danno 40 di mazzo. E' un computer. Morto? Morto? A me gli sta uno. Ero a boh. 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 Ando a boh. Andi qua. Il screaming. ma perchè si fa? ma perchè si fa? ma perchè si fa? è una mia terza partita è stasiso andiamo in creativo mi sono rotto il cazzo di pare ma stanno nel cesso è libero è libero è libero torna a chi, torna in lobi tu sei te cruto è libero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, notte l'ultima, quanto devo staccare dopo? Grazie a tutti. Aspetta, non c'è se fosse una sera giusta. Ma gli iscritti animo sono saliti? Raga, l'ho messa la live, entrate. Ehi, notte l'ultima, non c'è se fosse una sera giusta. La skin maschera del passo per cagare al caglio. Ah, lei dice una cagliata, indevina quanto di pingo? Prima sceglievo 9 di pingo. Ehi, notte l'ultima, non c'è se fosse una sera giusta. come cerca che molesta diamo il culo forte per messo la sesta e noi e springfield c'è una velocità più più redattiva di tutto il gesù ma non mi chiede fra stavo stavo pari andato su di qua, ho tornato un anno blu, un ragazzo è uscita da fuori ma dove sei? e tu, sotto di me ci sta un fuori, uno di quei cosi che ne è bene vabbè non manco me lo buttava una R via faccio una granatera non ce l'ho nato Alea è una roma arriva una cosa che ti cittadino va beh questa è un mia caglia ahah ahahah no gai sei morta veramente ma tutto a posto non mi so lanciare il lanciare a te faccio alla fine un gioco continua a chiedermi perché col bambino che faccio cosa fai per poco alla fine un gioco continua a chiedermi perché alessia per favore vai a vedere il posto che ti amano no vai a vederlo e non parlare puttana oh cristo dio chi è sto vacanza di sto cazzo questo è come farebbe maddalena mi sembra prof lo sapete che sono un arriscatulo ciao prof ehi prof tutto bene guarda l'altra volta è passata guarda davanti alla classe mia ciao prof di mese e ha fatto così guarda non cazzo è guarda vabbè vabbè angelo oh angelo ti dici che li vengo ok va bene bra ok ok guarda ha fatto ciao prof attimo attimo a mangiare allora mangiare ci vediamo fra poco rimani chiamato per sei viva Angelo Giuseppe sei andato di là no niente niente grazie a tutti 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 ragazzi grazie a tutti 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 sei più grazie a tutti 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 di fronte grazie a tutti 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 grazie a tutti